Percy non era ancora morto, ma era già stufo di essere un cadavere. Mentre si trascinavano verso il cuore del tartaro, continuava a guardarsi e a chiedersi come facesse quel corpo essere il suo. Le braccia sembravano cuoio sbiancato e tirato su stecchi di legno. Le gambe scheletriche parevano dissolversi in fumo a ogni passo. Aveva imparato a muoversi normalmente dentro la foschia della morte, più o meno, ma continuava a sentirsi avvolto in una coltre di elio. Era preoccupato che la foschia gli rimanesse attaccata per sempre, anche se fossero sopravvissuti in qualche modo al tartaro. Non voleva trascorrere il resto della vita come la comparsa di un film dell'orrore. Tentò di concentrarsi su qualcos'altro, ma non c'era niente di confortante da guardare da nessuna parte. Sotto i suoi piedi il terreno scintillava di un rivoltante colore purpureo, attraversato da una rete intricata di vene pulsanti. Nella tenue luce rossa delle nubi di sangue, Annabeth sembrava uno zombie appena risuscitato. Davanti a loro c'era la vista più deprimente di tutte. Un esercito di mostri era schierato all'orizzonte. Stormi di araialate, tribù di goffi ciclopi, mucchi di spiriti malvagi fluttuanti. Migliaia di cattivi, forse decine di migliaia, che giravano in tondo senza posa, si spingevano, ringhiavano e lottavano per farsi spazio. Un po' come lo spogliatoio di una scuola sovraffollata, con studenti mutanti strafatti di steroidi e molto, molto puzzolenti. Bob li condusse ai margini dell'esercito. Non tentò di nascondersi, anche perché sarebbe stato inutile. Con quell'altezza e quel bagliore argentato non si mimetizzava molto bene. A una trentina di metri dai mostri più vicini si girò verso Persi. State zitti e rimanete dietro di me, non vi noteranno. Speriamo, mormorò lui. Sulla spalla del titano, Bobbino si svegliò. Cominciò a fare le sue fusa da terremoto e inarcò la schiena, diventando prima scheletrico e poi di nuovo tigrato. Almeno lui non era nervoso. Annabeth si guardò le mani da zombie. «Bob, se siamo invisibili, tu come fai a vederci? Voglio dire, tecnicamente sei... insomma, sì», disse Bob. «Ma noi siamo amici». «Nick e i suoi figli potevano vederci», ribatté la figlia di Atena. Bob scrollò le spalle. «Succedeva nel regno di Nyx. È una cosa diversa». «Ehm, ok». Annabeth non sembrava rassicurata, ma adesso erano lì. Non potevano fare altro che provare. Persi fissò la miriade di mostri malvagi. «Beh, almeno non dovremo preoccuparci di incontrare altri amici in questa ressa». Bob fece un grande sorriso. «Sì, questa è una buona notizia. Adesso andiamo. La morte è vicina. Le porte della morte sono vicine», lo corresse Annabeth. «Attenzione alle parole». Si gettarono nella mischia. Persi tremava tanto da temere che la foschia della morte gli si scrollasse di dosso. Non era la prima volta che vedeva grossi raggruppamenti di nemici. Aveva combattuto contro un esercito di mostri durante la battaglia di Manhattan. Ma nel Tartaro era diverso. Tutte le volte che aveva lottato contro i mostri nel mondo mortale, almeno sapeva che stava difendendo casa sua. E questo gli aveva sempre infuso coraggio, a prescindere dalle scarse probabilità di successo. Lì, nel Tartaro, era lui l'invasore. Con quella moltitudine di mostri, Persi non c'entrava nulla. Proprio come il minotauro alla stazione nell'ora di punta. A pochi metri di distanza, un gruppo di impuse si fiondò sulla carcassa di un grifone, mentre altri grifoni volavano loro intorno, gracchiando indignati. Un lestrigone e un giganisa sei braccia si prendevano a sassate, ma non si capiva se facessero sul serio o meno. Un pennacchio di fumo scuro, Persi immaginò che fosse un Eidolon, si infilò in un ciclope, costrinse il mostro a prendersi a botte in faccia e poi si allontanò, per andare a possedere un'altra vittima. Annabeth sussurrò, Persi, guarda! A un tiro di schioppo, un tizio vestito da cowboy schioccava la frusta contro alcuni cavalli sputafuoco. Indossava un cappello da mandriano sopra i capelli unti, jeans enormi e un paio di stivali neri. Visto di lato, poteva passare per un umano. Ma poi si girò e Persi vide che la parte superiore del corpo era formata da tre diversi toraci, ciascuno con una camicia a scacchi di colore diverso. Non c'erano dubbi, era Gerione che aveva tentato di uccidere Persi due anni prima in Texas. A quanto pareva, non vedeva l'ora di domare una nuova mandria. All'idea di quel tizio che cavalcava fuori dalle porte della morte, Persi si sentì di nuovo invadere dal dolore. Le costole pulsavano, nei punti in cui le Arai avevano liberato la maledizione che prima di morire Gerione gli aveva scagliato contro. Avrebbe voluto avvicinarsi al mandriano a tre toraci, dargli un ceffone e gridare «Grazie tante, Tex!». Purtroppo, non poteva. Quanti altri antichi nemici c'erano in quella folla? Persi cominciò a capire che ogni battaglia che aveva vinto era stata solo una vittoria temporanea. A prescindere da quanto fosse forte o fortunato, a prescindere da quanti mostri avesse abbattuto, alla fine avrebbe perso. Era soltanto un mortale. Sarebbe diventato troppo vecchio, troppo debole, troppo lento. Sarebbe morto. Mentre quei mostri esistevano per sempre, continuavano a tornare. Potevano impiegare mesi o anni a riformarsi, forse perfino secoli, ma sarebbero comunque rinati. Vedendoli riuniti nel tartaro, Persi si sentì disperato come gli spiriti nel cocito. Che importanza aveva essere un eroe? Che importanza aveva compiere un gesto coraggioso. Il male era sempre presente e si rigenerava, gorgogliando sotto la superficie. Lui non era che una minuscola scocciatura per quegli esseri mortali. Non dovevano fare altro che aspettare. Un giorno, i suoi figli o le sue figlie magari avrebbero dovuto affrontarli di nuovo. I figli e le figlie. Quel pensiero lo riscosse. Con la stessa velocità con cui lo aveva sorpreso, la disperazione lo abbandonò. Persi lanciò un'occhiata ad Annabeth. Sembrava ancora un cadavere fatto di nebbia, ma lui vide il suo vero aspetto. Gli occhi grigi pieni di determinazione, i capelli biondi tirati all'indietro da una bandana. La faccia stanca e sporca, ma bella come sempre. Ok, forse i mostri sarebbero ritornati all'infinito, ma i semidei avrebbero fatto altrettanto. Generazione dopo generazione, il campo mezzosangue sarebbe andato avanti. E anche il campo giove. Perfino divisi, i due campi erano sopravvissuti. Adesso, se Greci e Romani si fossero uniti, sarebbero stati ancora più forti. C'era speranza. Lui e Annabeth erano arrivati fin là. Le porte della morte erano vicine. I figli e le figlie. Un pensiero ridicolo. Un pensiero meraviglioso. E lì, in mezzo al tartaro, Persi sorrise. «Che hai?» sussurrò Annabeth. Camuffato da zombie nella foschia della morte. Probabilmente sembrava che avesse appena fatto una smorfia di dolore. «Niente», rispose lui. «Stavo solo...» Da qualche parte davanti a loro. Una voce profonda mughiò. «Giapeto!»